Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo In questo video andremo a parlare dell'eruzione d'aria fredda che ci sarà durante comunque la giornata dei prossimi giorni Sicuramente arriverà una diluzione termica soprattutto sul lato adriatico Come sappiamo il burro non scenderà e ci verrà rilasciato, non ci vedrà più fredda come possiamo vedere in direzione sui volcani Questo porterebbe una termica di meno 4 su tutto l'adriatico, una termica tra compesa tra le meno 2 e i 0 gradi sulla zona tirrenica La Sardegna non dovrebbe essere coinvolta da nessuna diminuzione Attenzione perché potremmo andare a evidenziare i possibili fiocchi a causa di un cuscinetto freddo che si andrà a formare sulla pianura del Piemonte anche con le precipitazioni che potrebbero arrivare quasi fino in pianura Benora per ora è ancora troppo presto per sapere se ci saranno ma non escludiamo che durante le prime ore della mattinata possibili fiocchi potrebbero anche cadere sulla città di Torino Ovviamente questo è ancora troppo presto come ho già detto per saperlo ma non andiamo a escludere queste ipotesi Temperature saranno in netta diminuzione su tutta la zona adriatica e rimarranno più o meno presto che stabili invece sul lato tirrenico Vi ringrazio della visione e vi invito ancora ad iscrivervi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanellina Non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento metrico